ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Gaetano di Gaetano il suo canale di rosa e oggi ragazzi andremo a fare una cosa un po diversa dalle altre nel senso che oggi andremo ad accontentare una nostra fan chiamata cla parra sotto gaccia cute anche chiamata claudia e questa cla gaccia cute gaccia cute anche chiamata claudia mi ha chiesto sotto la mia ultima recensione di portare delle ship di ena e muni e adesso l'andremo ad accontentare allora ragazzi prima di cominciare questo video volevo dirvi che le immagini che andrò a cercare di ena e muni non le prenderò da google ma le prenderò da twitter perché io su google ho un po paura paura di ritrovarmi immagini che youtube non mi potrebbe mai far mostrare e che a me le scandalizzerebbero quindi claudia non fa niente se le immagini le andrò a prendere da twitter perché dai twitter è lo stesso perché ragazzi qua su twitter il rischio di trovare immagini anomale è veramente molto basso quindi iniziamo subito allora io direi di iniziare da questa con muni che praticamente ha comprato un happy meal a ena che tra l'altro questo è un happy meal di beh che dire happy meal sas e poi ci stanno pure questi piccoli criometti gialli e blu che poi si avrebbero messo una skin di ena su among us io sarei proprio esploso dalla gioia andiamo con la seconda immagine che è proprio in stile anime che poi voglio sapere perché ogni tanto nelle fan art o nelle ship di ena fanno muni più grande di ena cioè ragazzi io vorrei che almeno muni possa almeno magari qualche metro più alta ma non un po' così grande che poi per dire qua ena sembra una bambina piccola cioè sembra più piccola di muni così dai vabbè andiamo con la prossima ok quest'altra possiamo vedere muni che sta facendo delle pernacchie sul pancino a ena e poi questa che non ho capito bene poi come prossima immagine abbiamo questa qui ovviamente non ci poteva mancare un'immagine di ena e muni che sono gay con la bandiera delle lgbt e che si baciano ma vabbè però per me ena e muni sono solo amiche non sono fidanzate bene andiamo con la prossima immagine che è questa che poi finalmente una fan art dove non ritrangono muni più alta di ena finalmente poi come prossima immagine abbiamo questa qui che ad essere sincero è la più carina fan art che ho visto finora serio è veramente molto carina questa fan art ragazzi secondo me è la mia preferita di tutto secondo me tra tutte quelle che abbiamo visto finora in tutto il video la mia preferita è questa molto bella e molto cute oh no ragazzi scappiamo vabbè andiamo avanti come ultima ma non meno importante abbiamo questa immagine che è molto carina anche se adesso muni non è più una mezzaluna così perché come abbiamo visto nella loro mod di free night funk in the skin adesso muni è ritratta con un corpo umano nelle fan art che abbiamo visto di recente muni aveva un corpo umano vabbè magari questa è la muni è muni vecchia magari bene ragazzi il video di oggi finisce qui spero di aver accontentato Claudia e mi raccomando iscrivetevi e ghettano nel suo canale dei rosa e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video e mi raccomando seguitemi anche su tiktok il nome del mio profilo tiktok è una barra sotto italiana poi iscrivetevi anche al canale di MarioGamer68 e seguitelo pure su tiktok il nome del suo profilo tiktok è mattimattias0 ho scritto tutto attaccato e mi raccomando seguitelo anche su anche gli altri siti instagram e mattbriz che vi dirà come si chiama su questi siti sotto i commenti ah e seguite anche sempre un altro canale chiamato tutto fox miele anche se non ha video iscrivetevi che è un nostro amico comunque Claudia spero di averti accontentato e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao